Vi ricordate quanti scherzi ci hanno fatto i bellis a casa? Certo che si! Adesso allora saremo noi a fare qualche scherzetto nella loro casa! Forza ragazzi venite qui! Al 3 tiriamo sul telo 1, 2, 3! E la casa del divertimento dei bellis! Io allora sposto il tavolo Vai Ale noi diamo una spirciata alla casa del divertimento Dove c'è il lavaggio è tipo autolavaggio ragazzi! Cucina, giocano con lo slime! Dispettosi! Il garage per la loro auto, qui non inclusa ma è un autobasetto! C'è lo scivolo con le palline! Piace a Pinky Twink! E anche l'infermeria! Per curare i nostri cucciolini bellis! Adesso apriamo! Aspetta non possiamo aprire perché prima vanno a fare il giro di casa! Veramente c'è lo slime vero! Certo che c'è lo slime vero vero vero! Glitter! Slime food! Forza apri Nicky adesso sì che possiamo! E all'interno cartone! Oh oh oh! Vi ho dovuto ricostruire! Sì! Ah oh oh! Ah tirate! E' proprio bello! Wow! E' mitico! Oh scivolo! Diventerà grandissima! Ma io lo slime! Perfetto anche per ballare! Stai chiando Matti? Vai grande! Ci sono le polvere per lo slime! Ah è proprio da fare! Ma che bello! Guarda è pieno di viti! E guarda qui sotto cosa c'è? Gli stiche! Stiche! Perché sono belli! Perché sono belli! Brava Matti sono belli! E' gommoso! E' gommoso! E' gommoso! Arrivo col cacciavite ragazzi! E lo voglio! Sì perché il loro bagnetto funziona veramente! Mi dico! Prende il pezzo 42 attaccato a 36! Vai Niti! Allora è solo il passaggio 1! A me è il cacciavite! Arriva Ale! Svitto svitto svitto! E qui andremo a inserire le batterie AA non incluse nella confezione! Matti deve aiutarmi a scegliere lo sfondo più puccioso! Questo è il bagnetto! E' carino? Bellissimo! Qua invece ci siamo tuffate nelle palline colorate! E' carino? Bello! Bellos! Questa è la cucinetta Matti! Quanto è carina! Bella ma un po' sporca! Hai visto come mangiano la pasta? Oh mamma! Tirano su lo spaghetto! Mamma tieni tu mamma! Eh grazie! Comunque pasta al pomodoro e fragole Matti! Buono direi! E questa è la cameretta! Hai visto cosa fanno in camera Matti? Bella! Scrivono sui muri! Ma soprattutto guardate guardate cosa sto inquadrando! Le puzzette! Sì fanno le puzzette! E non è finita! Guarda il lettino pucciosità assoluta! No! Hai visto che è puccioso! Io avvito avvito avvito! Hai già messo le batterie! Sì! E io divento una streghetta! Vi ricordate ragazzi i vestitini dei Bellis che abbiamo visto nello scorso video? Ve lo lasciamo qui sotto al link in descrizione! Ma ho messo una vite! C'erano anche una vite! C'erano anche i costumini con cui i Bellis si cambiavano! Funziona! Ed è morbidissimo! Fatto apposta per mettici sopra un Bellis Matti assolutamente subito! Vai! Ma no non si fa la nanna lì sopra! Sono proprio dispettosi! Ale passami i cacciavite! Vieni! Al nostro costruttore! Cacciavite! Qualcuno sembra un bastone? Vai il portabastoni! Adesso costruiamo e acceleriamo! Cacciavite! 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 Obbligatorio la austura! Da dove iniziamo Matti? Dal bagno! Dal bagno! Dove arrivano Bellis? È spettacolare! La cicogna Belli Bigli! Li porta proprio qui! Non si fa il bagnetto col pannolino! Oh mamma! Poi hai notato che è super? Cacciavite sulla schiena! No adesso voglio vedere quando scende! Guarda la magia! si gira lo fa girare e lui scende automaticamente direttamente a giocare nella piscina con le palline un super bue è veramente il tuo? si c'è scritto bobby boo mentre nell'altro letto c'è muak muak e se la ride e sapete che in questa casa noi belli sappiamo un segreto? e quale sarebbe? e se vogliamo andare a giocare senza farci vedere usciamo dalla casa di qua ma come? di qua si apre di solito di qua è incastrata cosa succede? scherzetto scherzetto bellissimo Nicolò te l'ha bloccata adesso la puoi usare dai non dispiacerti la apro io voi ci avete fatto? tanti scherzetti e da lì si esce emergenza con letto rossato è una grande emergenza mettila qua sul lettino vai Matti mettile la cremina al talco e tutto fatto abbiamo il talco da sette accessori dal video che vi lasciamo al link in descrizione la scorsa volta quando ci ho fatto gli scherzetti a casa guarda che saggia meglio con quella linguetta meraviglio più che altro ha già fame e bobby boo ma sei ancora a farti il bagno? sì anche io vorrei farmi un bagno ragazzi il nastro trasportatore è bellissimo e quando si va a mangiare? hai ragione questa cucina è troppo pulita insomma lo chef sale qua sopra guarda il piedino con gli spaghetti e questo è il laboratorio con cui adesso andremo a fare glitter e slime per questa faccenda sulle maniche brava così non ci sporchiamo ecco la bustina di slime rosa io faccio i glitter i glitter occhio mi raccomando con i glitter c'è l'apertura agevolata sì bisogna mettere prima un goccio d'acqua no non c'è esplosione aspetta Matti prima ci vuole la polvere abbiamo due due bustine quindi possiamo fare due volte lo slime all'interno della casa guarda i glitter pioggia di glitter arriva il misurino tre bicchieri d'acqua c'è anche la tacca non si può sbagliare uno due e tre a vita a vita a vita e adesso Matti aspetta cappuccio che se no esce tutto giusto ecco adesso shecker up shecker up per due minuti un attimo yammy yammy dobbiamo prima preparare la cucina qui all'interno nel cassettone ci sono piatto e cucchiaino glitter e slime pronti e adesso si schiaccia che cos'è questo no non è una puzzetta di bobby boo credetemi non è stato lui è lo slime che arriva funziona è tornato su no è tornato su abbiamo fatto un altro scherzetto ai bellis Matti stacca vai stacca l'ucchiaino Matti bene adesso spostiamo il piattino di qua il glitter metto io vai manichi vai manichi scusata di glitter vediamo il piattino buon appetito cosa dice buono dico è molto buono ragazzi non è ancora pronto però cosa manca ancora un po' di slime ok lo slime non è mai abbastanza vuoi ancora un po' di glitter si si certo guardate un po' è proprio come una saliera si chiude e si apre i buchetti sono a forma di cuoricino basta shakerare ed esce una pioggia di glitter secondo te piace più a Yammy Yam o a Matilde a Mati Mati a Mati Mati di sicuro Yammy Yam mi ha fatto un po' stroccio Ale già ma cos'hanno fatto i belli sulla casa è sul tetto ma come sul tetto oh mamma il letto nel distributore di cibo sul tavolo guarda vuole mandare fuori le palline con la scala no e intrappolare le sue sorelline chissà cosa diranno quando arriverà è carinissima è in versione bella che bella col pannolino anche lei si e c'è anche il pannolino guarda Mati di che colore è tutto olografico di glitter parbici arrivano voglio vedere sei curioso che cacchina no ti ricordi che nel pannolino si nasconde una sorpresina guarda che bella tuttina con scritto è carina l'abbiamo liberata adesso Mati libera il cerottino lì qua il cuoricino si sente battere il cuoricino e adesso comincerà a parlare ma andiamo a vedere che ricordino c'è nel pannolino la sorpresa la sorpresa la sorpresa cacchina verde cacchina verde oh no quanto muco pulisci il naso usa l'aspiratore oh è la pupipedia ma vestiamola che completino adorabile vai Mati metti nel vestitino anche il ciuccio è glitter e la cosa più bella forse è il biberon posso scegliere il biberon è carinissimo e prima di chiudere il vestitino vediamo il neo sul sederino che simbolo ha? occhiali ovvio sono quelli di Beth Ale non girarla verso la casa non deve accorgersi di quello che è successo non dovevi girarti ci vuole subito il ciuccio magnetico ti metto una mollettina c'erano anche gli sticker oh ma che carina per decolarla un po' di latte molto meglio si accorta ancora muac muac scendi dal letto no ma come no non ti faccio più andare nel bellis lavaggio arrivo arrivo basta pronunciare nel bellis lavaggio e tutti si tuffano anch'io mi tuffo io accendo ecco grazie Beth si erano dimenticati e tu scendi dal tavolo hai visto come scende? Pinky Twink ho col culetto di fuori a Santerino no io voglio ancora mangiare se continui a mangiare non ti faccio andare nel bellis lavaggio via subito rimetti il pannolino no e allora non ti faccio andare nel bellis lavaggio cosa? funziona oh bene il mio trucco per lavare e far mettere in ordine i bellis ha funzionato adesso posso mettermi il pannolino ma quello glitter ora che la casa è sistemata e che tutti i bellis sono tranquilli cosa vi è piaciuto di più della casa ragazzi? il lavaggio è troppo bello lo slime lo slime? lo spanno veramente dappertutto è vero io ho dato troppo belli bet perché è troppo cute e se questo video vi è piaciuto mettete un pollicione e non fate i mamali ma scaricate LabGBR per non perdervi i prossimi video con le notifiche ciao 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 Grazie a tutti.